Eccoci qua, complimenti, la vostra abbracciare Sì, abbracciamolo proprio, proprio a modo, io sono un po' scomposto No, 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 è normale Montatemi di qua, eh Facciamo una cosa ancora migliore, prego Ora i problemi sono qui Fermatevi un momentino Mi vedete la faccia per favore Questa l'ha fatta La proclamazione, però mi fa piacere farlo io Grazie Intanto prima, gliela do Grazie E poi? E' grandissima Ora è fuori Grazie Grazie Grazie